Amici bentornati sul canale 9.000 giri e elaborazione autosportiva. Avete una Peugeot RCZ e non avete tutta quella serie di problemi che abbiamo spesso elencato per cui siete un po' più tranquilli e volete fare un upgrade? Ok, seguiteci sul video e vedrete quello che abbiamo fatto su questa vettura. Sigla! Allora, oggi abbiamo l'ennesima Peugeot RCZ, questo è un 2200 cavalli e una volta tanto ne abbiamo una senza i vari problemi endemici che abbiamo più volte descritto. Riprendo molto velocemente, li abbiamo già descritti in parecchi video, soprattutto sul 1.6 THP, quello da 156 cavalli, ma a volte c'è capitato anche su questa versione più potente, più prestazionale, sono motori che hanno dei problemi endemici abbastanza gravi che riguardano la dilatazione dei pistoni, riguardano la pompa dell'acqua, riguardano varie altre problematiche che sono bloccanti da un punto di vista meccanico cioè creano veramente dei grossi problemi a coloro che hanno questi motori. Ne abbiamo viste tante, abbiamo descritto in video precedenti e anche come siamo riusciti a intervenire. In alcuni casi magari i problemi non erano presenti tutti insieme, in alcuni altri casi ci siamo trovati con una macchina di un cliente, appunto una macchina analoga, con tutti i problemi diciamo concentrati, li abbiamo risolti tutti, adesso la macchina gira in maniera perfetta e il cliente è soddisfatto, però sono macchine diciamo un pochino problematiche. Diciamo che questa per fortuna è una di quelle che è entrata senza problemi particolari, per cui il cliente ci ha chiesto di fare una serie di interventi, adesso abbiamo appena iniziato, una serie di interventi per cercare anzitutto una manutenzione, quindi un controllo di tutto quello che era l'integrità strutturale del motore, verificare che non ci fossero diciamo problemi nascosti, vizi nascosti diciamo così, e poi fare due o tre upgrade, nello specifico abbiamo iniziato con la parte dello scarico, questo è il classico scarico ragazzon con la doppia uscita, in questo caso essendoci la placchettina sottosaldata significa che il terminale è un particolare omologato, quindi il cliente tiene l'omologazione nei documenti della macchina e per qualunque richiesta, qualunque controllo, questo tipo di modifica è accettata dal codice della strada. Da un punto di vista formale, bisogna poi riportare anche l'omologazione sul libretto, se uno lo vuol fare diciamo che lo può tranquillamente, può completare la pratica, però diciamo che in linea puramente teorica, se uno ha la propria omologazione, esibisce l'omologazione, di solito problemi particolari non ne vengono non ne vengono creati. Il lavoro successivo sarà quello di cambiare il tubo centrale, quindi di andare a creare, togliere via un rompifiamma che c'è diciamo a metà macchina per avere un sound un pochino più corposo, diciamo che lo scarico l'abbiamo concepito in questa maniera qua. Al di là dello scarico ci sta arrivando l'intercooler, quindi abbiamo ordinato un intercooler maggiorato più o meno con un litraggio superiore del 20%, quindi non una cosa estremamente esagerata, ricordiamo che analizzando il discorso dell'intercooler bisogna verificare il litraggio dell'intercooler esistente e compatibilmente con quello che è il lavoro che viene commissionato dal cliente valutare se è il caso di maggiorarlo. Teniamo conto che una maggiorazione eccessiva può essere vantaggiosa per un discorso di raffreddamento dell'aria che arriva al turbo, però dall'altra parte bisogna valutarla bene perché avrebbe decompresso, cioè si creerebbe una decompressione che sarebbe poi difficilmente recuperabile tramite mappa. Quindi bisogna sempre trovare, come in tutte le cose, la giusta calibrazione, quindi fare una maggiorazione ma una maggiorazione che sia, diciamo, non estrema. In questo caso appunto daremo maggior raffreddamento alla turbina e potremmo fare un lavoro di revisione turbo, perché questa macchina ha circa 90 mila chilometri, quindi faremo un lavoro di revisione turbo e contestualmente andremo a cambiare la girante mettendo una girante in avion, quindi girante in avion più leggera, si diminuiscono la massa interna della turbina. In questo caso quello che si otterrà è avere un'elasticità di marcia, un ingresso del turbo in pressione più rapido e più veloce. Quindi la macchina, volendo anche senza ritoccare la centralina, già provando una macchina con una turbina con girante in avion c'è già una differenza più che accettabile. Ovviamente in questo caso modificando la turbina e l'intercooler, gioco forza, bisogna fare anche la mappatura per andare ad adeguare in maniera perfetta tutti i parametri. Quindi parte motore l'abbiamo descritta. Altro intervento che ci ha chiesto il cliente riguarda la parte dell'impianto frenante, quindi sono in arrivo dischi dello stesso diametro però fatti con un materiale più performante, quindi i soliti dischi dell'ABC puntati e baffati e relative pastiglie che si vanno ad accoppiare sempre ABC con la mescola gialla. In questo caso l'accoppiamento dei due materiali creerà un potere frenante superiore rispetto all'impianto di serie, anche se diciamo il cliente con la macchina di genere non andrà in pista, però diciamo il fatto di potenziare la parte motore e adeguare poi le altre componenti, in questo caso stiamo parlando appunto dei freni, secondo me è un ragionamento più che logico. L'assetto per il momento lo lasciamo così com'è però diciamo che nel prossimo futuro sicuramente il ragionamento che andrà a fare il cliente è quello di toccare anche la parte di assetto. Io spero di avervi elencato in grosso modo un po' tutte le varie caratteristiche che stiamo sviluppando su questa macchina, una volta tanto una macchina di questo genere con un tipo di motore senza problematiche comunque è una soddisfazione perché a volte ci avete alcuni commenti che erano ma possibile la mia è perfetta, non è che tutte le macchine che hanno appunto questo genere di motore per forza di cose debbano avere dei problemi. Diciamo che una percentuale superiore alla media sicuramente c'è, però non è che tutte hanno assolutamente questo problema per cui siamo contenti per coloro che hanno fatto una manutenzione corretta e continuano a gestire la macchina in maniera perfetta. Io direi che anche per questa Peugeot RCZ è tutto, come al solito vi invitiamo a cliccare sulla campanella, a mettere un bel like e soprattutto iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati di tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!